E una volta sbarcati nel nostro paese, gran parte dei migranti finiscono nei CIE, centri di identificazione ed espulsione, dove possono essere rinchiusi fino a 18 mesi. Le telecamere del TG3 sono entrate per la prima volta nel CIE di Gradisca di Sonzo, vicino a Gorizia, che è stato in passato teatro di molte volte. Sentiamo i nostri inviati, Valeria Collevecchio e Stefano Cangemi. Carcere, zoo, campo di concentramento. Quando entri non ti viene in mente nient'altro. Si affollano subito contro i cancelli. È arrivata la televisione, finalmente possono parlare con qualcuno. Uno, si chiamano con dei numeri, come Auschwitz. Secondo, io parlo di me, non sono un delinquente. Ho un problema con i documenti che sono scaduti. Sono qua da un mese, non c'è nessuna informazione. Nel cortile assolato uno porta un materasso. Mette in scena le sue notti, senza lenzuola, una coperta di lana buttata addosso. Entra a stanza numero 8, trova, bagno non c'è, l'isola sporca, i lato non cambiano. Gradisca, fino a ieri sinonimo di lager, teatro di incendi, rivolte, disordini, fino a ieri impenetrabile per associazioni umanitarie, giornalisti e osservatori. Oggi dei 248 posti disponibili, solo 24 sono occupati, il resto è in ristrutturazione. Quasi tutti qui non hanno commesso nessun reato, a parte non avere documenti in regola. Ognuno di loro costa allo Stato 42 euro al giorno. Trascorrono ore, giorni, mesi, in attesa di essere identificati ed espulsi. Non c'è riato, non c'è precedente finale, pulitissimo. Una carriera bella, pulita, buonissima. Mai, mai rubato una caramella dentro un supermercato. Sono qua. Non va bene così, non è giusto. Che cos'è questo? Questo è, mi ha dato il medico perché sto male. Il cellulare sgabbia e sono isolato da quattro giorni dentro una stanza con le chiavi. Non esco, non riesco, si è chiuso, non riesco a uscire, non mi fanno uscire. E sono fatto il sciopero di fame, quattro giorni. Tu dietro queste sbarre, come ti senti? Come un cane. No, anche il cane è meglio, perché il cane, se ha un buon padrone, sta meglio di noi. E allora come ti senti? Come uno schiavo, non come un essere umano purtroppo. E sono fiero di essere un essere umano, fiero di essere senegalese e non vedo il momento di tornare a casa mia invece di vivere così.